Rimaniamo a Pescara, vi proponiamo ora una curiosità, un breve frammento di una telefonata fatta dal sindaco Carlo Masci che nel pomeriggio ha chiamato i primi dieci della lista degli over 80 che sulla piattaforma hanno manifestato il proprio interesse per il vaccino. Un modo anche per constatare il sentimento degli anziani. Verso la campagna. Pronto, buongiorno, sono il sindaco di Pescara, Carlo Masci. La chiamo perché la signora Liale si è iscritta alla piattaforma per la vaccinazione e quindi volevo comunicarle che domani pomeriggio alle ore 15 può recarsi presso il Palabecci al porto turistico per fare la vaccinazione. Con chi ho parlato? Va benissimo, allora domani alle ore 15 al Palabecci al porto turistico con un documento di identità. Va bene, la saluto, arrivederci.